Diffondere i risultati dell'ultimo biennio e presentare la nuova programmazione, in particolare il percorso Digital Storytelling che si svolgerà nel Comune di Fano. Sono stati questi gli obiettivi dell'incontro organizzato alla Fondazione Carifano dall'ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche, una scuola d'eccellenza post-diploma che offre percorsi di specializzazione tecnica che consentono di stabilire una forte sinergia tra la formazione e il mondo economico, commerciale e industriale. Infatti il 50% delle ore vengono svolte in azienda e i docenti sono per oltre l'80% consulenti, imprenditori e professionisti. Il punto di forza sta proprio nella capacità di garantire l'acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali. Abbiamo avuto 22 diplomati, di questi 22 diplomati l'86% sta già lavorando in modo coerente con il percorso svolto e quindi i risultati hanno spinto a presentare questo nuovo corso che partirà qui a Fano. L'occupazione per noi è determinante, gli ITS esistono perché hanno questo scopo, sviluppare competenze nelle 900 ore di laboratorio e nei 6 mesi in azienda e queste competenze poi metterle subito a terra permettendo alle aziende di assumere questi ragazzi o a tempo determinato o indeterminato o a volte i ragazzi si preparano per il lavoro autonomo. Datti importanti anche a Pesaro? A Pesaro sono stati dati molto importanti, come dicevo prima stiamo alle percentuali vicine al 90% di occupazione su questo tipo di percorso ma anche altri percorsi che sono vicini a questo, che riguardano sempre il mondo digitale come digital strategy, hanno comunque delle percentuali molto elevate. Stiamo lavorando sostanzialmente su una necessità delle imprese che magari non è ancora chiara ma che nel futuro vedrà sempre più coinvolto questo tipo di figura. È un importante evento che in questo momento alcuni ragazzi di un altro corso che è il Digital Project Manager stanno facendo a Roma dove praticamente partecipano al Maker Faire, la fiera del fare, la fiera creativa e l'ITS Turismo di Nuove Tecnologie e Marche è stato selezionato tra i 30 che erano stati scelti inizialmente sui 70 nazionali e ci sono sei ITS che in questo momento presentano i loro lavori davanti al Ministero e davanti al responsabile scientifico che è della CAFOSCA di Venezia. Il percorso formativo è completamente finanziato dal MIUR e dalla Regione che stanzia 2 milioni di euro a biennio per gli ITS delle Marche. Le iscrizioni ai percorsi biennali di 1800 ore scadono il 19 ottobre, dopodiché verrà effettuata una selezione dei candidati. La formazione è fondamentale, le cose cambiano molto in fretta, oggi hanno bisogno tutte di essere affrontate, chiaramente la Regione Marche investe moltissimo su questo e gli ITS hanno un ruolo molto importante, ci sono molte forme di programmazione e di formazione attraverso molti enti, oggi ci soffermiamo sugli istituti tecnici superiori di ITS che sono, ripeto, quattro fondazioni nella nostra Regione, questa qui di Fano è una delle più tenaci, usiamo questo termine, che affronta con forza i temi dell'innovazione, quelli tecnologiche, quelli della digitalizzazione appunto, ed ha risultati molto molto positivi. Quando oggi si dice non trovo lavoro, cerco ma non trovo, o non cerchi per davvero oppure non hai la preparazione che ti consente di poter entrare. Se hai la giusta preparazione, il lavoro oggi fortunatamente si trova abbastanza agevolmente. Dopo i saluti istituzionali all'evento sono intervenuti ex studenti e professionisti che hanno mostrato contenuti e metodologie didattiche che si utilizzano nelle classi. A portare la sua testimonianza anche Tommaso Vagnini, 27enne, che si è diplomato la scorsa estate in digital storytelling. Questo percorso per me è stato altamente formativo e mi ha dato una direzione proprio nuova per la mia sfera lavorativa e facendomi consolidare e apprendere nuove esperienze nel mondo digital che oggi secondo me sono la base per affacciarsi nei lavori del futuro. Poi questa esperienza mi ha portato a fare uno stage presso un'agenzia di comunicazione di Cattolica dove attualmente lavoro ed è stato veramente un bel trampolino di lancio per poi cimentarmi nel mondo del lavoro effettivo, insomma, portando quello che avevo preso il corso. Mi ha permesso di affilare e di sviluppare nuove competenze nell'ambito della fotografia, soprattutto della scrittura, nell'ambito video, social e tutto quello che riguarda il web, insomma. Quindi è un'esperienza che propongo molto volentieri ai nuovi ragazzi che magari non hanno ben chiaro il loro futuro e non hanno i direi chiari di cosa fare perché gli aprirà una vista sul mondo di questi nuovi lavori che sempre più sono richiesti e sempre più le nuove generazioni riescono a dare il meglio di loro, conquistando bene questi mondi, riescono a poter dire la loro e sono sempre ben visti da imprenditori per poter dare delle nuove possibilità.